Un posto al sole Un posto al sole, puntate fino all'11.05, il piano di Elena Le anticipazioni di Un posto al sole sono pronte a raccontarci la trama delle nuove puntate della Sop Made in Sud, in onda su Rai 3 dal 7 all'11 maggio 2018, al consueto orario delle 20.45. Ma ecco in dettaglio cosa ci aspetta. Lunedì 7 maggio Arianna rivela ad Andrea che Enriquezza ha fatto delle pesanti avancesa da Elena. Mentre Susanna e Nico, dopo aver ascoltato de nascosto la conversazione, pensano che il fotografo sia la persona giusta per ciò che hanno in mente. Veronica decide di scaricare Alberto, mentre Roberto Ferri continua a portare avanti il piano concordato con lei per impadronirsi dei cantieri. E per riuscirci, prova con successo a portare Sandro dalla sua parte. Martedì 8 maggio. Susanna e Nico pensano che Elena abbia bisogno dell'appoggio di qualcuno a lei vicino per trovare il coraggio di denunciare Enriquez, mentre la donna continua a subire le molestie dell'avvocato. Nel frattempo Sandro comunica a Marina la volontà di vendere il suo pacchetto azionario in favore di Veronica. Non sopportando più di essere messa in secondo piano da guido, Mariella finisce per prendere un'importante decisione. Un posto al sole, anticipazioni 9-11 maggio 2018. Mercoledì 9 maggio. Elena realizza che fuggire non è la soluzione giusta, e decide finalmente di reagire. Le anticipazioni di un posto al sole ci dicono intanto che la situazione ai cantieri si fa sempre più tesa al punto che Marina sarà quasi costretta a fare un doloroso, ma necessario passo indietro. Dopo aver rotto il fidanzamento, Mariella è delusa dall'assoluta mancanza di reazione da parte di Guido, e si rifugia a casa dell'amico. Giovedì 10 maggio. Elena vorrebbe incastrare Enriquez registrando il suo incontro con lui, ma l'uomo si dimostrerà più furbo di lei. Otello sta per inaugurare la sua nuova moto vintage, mentre Mariella comincia ad apprezzare la vita da single. Nel frattempo, Cerruti si accorge che Guido ancora non ha letto la lettera di addio che Mariella gli ha scritto. Cosa farà il del bue quando scoprirà che la sua fidanzata lo ha lasciato definitivamente?. Venerdì 11 maggio. In questa puntata vedremo Raffaele a causa di una disastrosa caduta vivere un'esperienza ai confini della realtà. Nella quale incontrerà delle persone decedute da tempo e a lui molto care. Chi saranno questi personaggi che Raffaele avrà la possibilità di rivedere?. Per saperlo non ti resta che seguire il nostro canale dedicato ai protagonisti di Upass, premendo sul tasto Segui in alto. Piccoliorn professionale delle persone decedute che si�� non ti resta che vi impossi abilico a sitesvlog ABDDI. Dopp tumor vendere con queste vostre prossime. Dottom grazie alla prossima. Grazie a tutti.